Oggi parleremo ancora di alimentatori, anzi in un modo un po' particolare andando a vedere alcune di quelle cose che solitamente non troviamo sui libri ma che derivano più che altro dalla pratica e dall'osservazione delle schede che ci circondano quindi tutti quegli espedienti che i progettisti esperti a cui magari ci ispiriamo utilizzano e inseriscono nei circuiti reali oggi vedremo quello che riguarda la parte di alimentazione, di filtraggio e protezione degli ingressi con la tensione di rete iniziamo subito la differenza tra un circuito amatoriale o fai da te e uno professionale è veramente minima e di solito consiste in una serie di accorgimenti che difficilmente troviamo nei libri e raramente ci vengono indicati l'unico modo per accoggersi di queste piccolezze che fanno la differenza è magari di andare a curiosare e vedere le schede che sono veramente prodotte quindi che troviamo in circolazione, dalla lavatrice a schede industriali di ogni tipo quindi andando a curiosare si vanno a trovare delle cose che potrebbero essere utili uno di questi casi riguarda per esempio l'utilizzo e il diciamo il prelevamento della tensione di rete per portarla poi nei nostri apparati abbiamo visto lo scorso video come creare un alimentatore duale il nostro alimentatore duale prende la tensione di rete con una spina questa in un primo prototipo che potremmo costruire arriva direttamente sul trasformatore qua solitamente andiamo a mettere un fusibile cosa che l'altra volta abbiamo ignorato quindi utilizzando un fusibile che viene a scattare viene a saltare nel caso ci sia qualche problema quindi si abbia un problema a valle quindi magari un cortocircuito e quindi ci sia una richiesta di corrente troppo elevata possiamo andare a inserire un fusibile del valore di qualche ampere dipende da quanti ampere assorbe il nostro circuito per esempio potrebbe essere un fusibile da 3 o 4 ampere nel caso del nostro alimentatore regolabile eventualmente potete anche procedere un po' a tentoni partendo da valori più bassi poi eventualmente salire quindi mettiamo un fusibile da 4 ampere a 250 volt che salterà nel caso ci sia per esempio un cortocircuito nei circuiti diciamo professionali o commerciali troviamo spesso un componente di cui si parla sempre molto poco che si può rappresentare in vari modi per esempio a seconda di quello che andate a mettere in questo caso con questo doppio diodo ho indicato un soppressore per gli sbalzi di tensione è una specie di diodo zener molto particolare che in presenza di uno sbalzo di tensione quindi se il valore medio della mia tensione di rete so che è alternata immaginate che il valore medio sia 230 volt a un certo punto per qualche problema ho un picco una scarica questa è molto più alta e visto che noi usiamo un trasformatore per poi andare a trasformare questa corrente se io non avesse delle protezioni se qui mi arriva un picchio che arriva che ne so a 300 volt io sul secondario del mio trasformatore andrò a rilevare un picco in proporzione a quanto mi arriva l'ingresso quindi questo può essere molto pericoloso se qua non ho particolari accorgimenti come per esempio un regolatore lineare ma al di là di quello questo picco potrebbe essere tanto elevato da andare a farmi saltare per esempio il regolatore lineare o addirittura a farmi saltare componenti tra diciamo la spina del nostro circuito e il nostro microcontrollore quindi potrebbero creare dei danni a sorpresa quindi magari fondere contatti o chissà che altro allora si mettono questi componenti soppressore di sovratensione un altro componente che troviamo spesso in questa posizione o in alternativa a questo lo metto qua di fianco solitamente mettete o uno o l'altro è il varistore che è una specie di resistore che ha una resistenza elevatissima del valore di qualche mega anzi qualche decina di mega se voi andate a vederlo ha la forma quasi di un condensatore di quelli a disco anche abbastanza grande con due piedini, due terminali e sopra di solito viene riportata una tensione per esempio 250 volt con una serie di sigle non sono facilissimi da andare a individuare o riconoscere comunque questi funzionano in modo simile a un soppressore di disturbi nel caso ci sia uno sbalzo di tensione vanno a azzerarlo, lo annullano perché quando la tensione supera il loro valore nominale si comportano come una resistenza con un valore più basso quindi smorzano questi disturbi subito dopo questi componenti possiamo trovare dei filtri per la tensione di rete questi filtri di solito vengono venduti come degli scatolotti eventualmente chiusi o anche diciamo comparti a vista comunque sono dei blocchi già pronti, non li costruiamo noi da zero questi filtri all'interno sono formati da una serie di bobine e condensatori che servono per andare appunto a eliminare eventuali disturbi magari spuri per esempio segnali che si possono accoppiare ai fili le tensioni di rete e che possono dare fastidio ai circuiti sono diciamo fondamentali indispensabili anche per evitare che il nostro dispositivo possa magari buttare sulla rete di casa, sulla rete elettrica dove andiamo a collegarci, dei segnali indesiderati è per esempio il caso degli alimentatori switching dove questi filtri sono pressoché obbligatori perché questi generano delle frequenze molto fastidiose, molto elevate che possono diciamo entrare in rete e dar fastidio ad altri elettrodomestici o ad altri dispositivi, quindi avete questi filtri di rete infine arriviamo al nostro trasformatore e qua possiamo ancora aggiungere un altro tipo di protezione solitamente formato da quello che viene detto una rete snabber cioè una rete RC formata da una resistenza e un condensatore il condensatore solitamente che troviamo sono da 0.1 microfarad con valori di tensione di 300-400 se non addirittura 1000 volt quindi un kilovolt quindi devono resistere a tensioni molto alte accoppiati con una resistenza del valore di un centinaio di ohm questi servono per annullare i transitori che si formano quando stacco l'alimentazione a causa della bobina del primario che carica di energia sulla parte di destra poi abbiamo il nostro ponte a diodi e qui abbiamo il condensatore elettrolitico il primo condensatore elettrolitico se il nostro circuito lavora a tensioni elevate questo condensatore potrebbe anche restare carico e quindi diventare pericoloso qua si può usare un'altra protezione un altro stratagema che serve più che altro per noi o per l'utente che va magari a toccare il circuito e potrebbe prendere magari una scossa e quindi si vanno ad aggiungere una resistenza che va a scaricare il condensatore una volta che il circuito è disalimentato quindi lo faccio qua un po' più in grande questo qua immaginatevi sia il vostro elettrolitico per esempio da 2200 microfarad a magari non so 50 volt nominali quindi più o meno questo per farlo scaricare andiamo a mettergli qui una resistenzina che ha il valore solitamente di un chilo con un wattaggio di mezzo watt questa resistenza viene anche chiamata bleeder ed evita che quando toccate magari il circuito disalimentato magari vi beccate una bella frustata dovuta alle tensioni e ai residui fate tesoro di queste informazioni che ho recuperato un po' anche riparando a schede come vedete sono cose magari anche semplici e stupide però che fanno la differenza quindi mettetevele in tasca e usatele nei vostri progetti bene vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo domani ciao